Salve a tutti quanti, io sono Terenas qua affiancato dal carissimo Sol e siamo qua insieme per andare a parlare, in collaborazione con Riot, della patch 0.9.2 Partiamo subito in grande stile con il nerf ad Ekarim Sì, sì, il protagonista di questi nerf, diciamo, perché era veramente molto forte Da tanto tempo, oltretutto Da tantissimo tempo, hanno fatto quello che ogni giocatore chiedeva Cioè, hanno ridato identità al campione come dovrebbe essere su questo gioco Cioè, deve avere una meccanica con lo scopo di evolversi per dare davvero potenziale alla sua giocata Non essere una carta esageratamente forte a costo 6 Come vediamo gli hanno tolto uno di vita al livello 1 Ma soprattutto hanno nerfato i cavalli Questa cosa, mista al fatto che poi recupererà potenza quando si trasforma Rende la giocata di Ekarim al turno 6 molto meno potente E comunque efficace Perché, come diciamo sempre, lo scopo è nerfare le carte Ma non per distruggerle, ma per comunque dargli una loro potenzialità Il problema di Ekarim è che a turno 6 veniva giocato da chiunque Era semplicemente troppo forte in ogni occasione E viene semplicemente specializzato per essere forti in quelli che sono i mazzi basati sull'effimero In modo da farlo utilizzare in quel senso e non universalmente parlando Detta molto semplicemente E infatti anche la condizione di livellamento è stata migliorata Perché da 8 effimeri che attaccano è passato a 7 Che è la cosa fondamentale Il che rende il tutto più semplice Sempre parlando di Isole d'Ombra Ovviamente passiamo al prossimo campione che è Kalista Lei invece che veniva giocata veramente poco viene prontamente buffata Assolutamente, buff davvero interessante Come ci aspettavamo la condizione per salire di livello È stata messa a 4 alleati sono morti nell'arco della partita Non che lei li debba vedere che era una condizione assolutamente difficilissima da realizzare In pratica l'hanno fatto come Yasuo Appena gli alleati muoiono Tic, parte il counter Il contatore sale, sale, sale Sono morti 4 Oh guarda, di colpo funziona I mazzi ragno con Kalista Eh già, eh già Prima era una condizione veramente difficile da attuare Ora invece in ottica di un mazzo aggressivo Kalista prende un potere incredibile A livello 1 tra l'altro non ha più un testo praticamente assolutamente temibile Come dicitura Ma diventa un 4-3 E un 4-3 temibile mi ricorda tantissimo La Vrate Caller che è stata nerfata negli scorsi nerf E comunque ha un ottimo potenziale di danno Perché 4-3 con temibile a costo 3 è veramente incredibile E da trasformata ottiene ancora un vantaggio in più Cioè la prima volta che attacco ogni turno Evoco un servitore Il servitore più forte che è morto questa partita E gli do effimero Questa cosa è incredibile Anche appunto in un'ottica aggressiva Dove non rievochiamo un servitore particolarmente forte Andiamo ad aggiungere dello swing ai nostri attacchi Nei primissimi turni E ragionevolmente come hai detto tu In un mazzo con i ragni La potremmo vedere trasformata Ma tranquillamente di quarto turno Questa Kalista E questo lo rende molto più efficace in ogni fase della partita Assolutamente Andiamo un po' invece a quello che è la lancia oscura La lancia oscura di Kalista Che il costo sale da 2 a 3 Molto forte Lancia oscura Molto forte Ha una condizione di attivazione Quindi tutti i giocatori di carte sono dei fan Delle rimozioni condizionate Le carte come vendetta Non piacciono di solito Sono compensate da un enorme costo in mana Di solito Infatti vendetta è questa 7 Quindi questa carta piace Nerfare il costo Probabilmente era importante ma non necessario Però ci sta secondo me come nerf Fai conto che addirittura alcuni mazzi Garen ravvivatore Andavano a utilizzare l'ancio oscura Quindi cominciava a diventare un pochino troppo universale È sempre il solito discorso Deve essere una scelta e meno universale Assolutamente quello è vero Che è necessario in un gioco di carte Perché ogni mazzo deve avere la sua identità E ogni carta deve avere uno scopo Ed è il motivo per cui ci sono così tanti cambiamenti All'interno di questa patch Che non vanno a nerfare ciò che è forte Ma anche a modificare ciò che non viene giocato Partiamo ad esempio dalla vedetta ai confine Che adesso si chiama vedetta elite Giustamente perché ottiene la carica di elite Anche lui È assolutamente una modifica piccina Ma che la aiuta Vediamo se si gioca Sì perché almeno puoi inserirlo in un mazzo elite Come quel body 1-4 Che può risultare molto efficace Per tankarsi di faccia magari quei mazzi ragno Che puoi eliminare gli 1-1 Uno alla volta Ogni attacco Ogni volta che difendi Può tornare comodo Ha uno scopo almeno Esiste per qualche motivo Giocata in seguito a un fabbro 2-2 Diventa una 2-4 2-5 a costo 2 Non è per niente male È buona Partiamo poi con i cercatori di magia Che tutte queste carte Una alla volta Vengono modificate in modi molto diversi Ma per uno scopo Nessuna veniva giocata In senso pratico Istigatore dei cercatori di magia Il suo potere passa da 1-4 E la vita passa da 4-3 E il nuovo testo è Dai più 2-2 Una volta che hai castato una spell A costo 6 All'interno della partita È meglio Perché prima era la carta peggiore del gioco Cioè Addirittura Semplicemente quello Mai usata Mai vista Ti toglieva una carta dalla mano Per essere nella media Sì Era ok Ma non avevi un motivo per usarla Adesso i cercatori di magia in generale Anche altri spell Altri servitori che vengono inseriti al gioco Vogliono essere inseriti in un mazzo lux Parliamo anche all'investigatrice dei cercatori di magia Crea un incatenare Una volta che hai castato una spell A costo 6 più mana Almeno hai creato un'altra spell Castandone un'altra Esatto Fa un bel valore La cosa che rimuoveva testo e keyword Che definiamo silenziare di solito Silenzimento Era carina Ma aveva un modo veramente strano di funzionare Deve aver usato una magia prima Nello stesso turno in cui la usavi Quindi era difficile usarla in curva Era strana Ora invece fa valore sulle magie Che appunto l'identità che deve avere il mazzo con lux Praticamente E infatti anche il persuasore dei cercatori di magia Il costo scende drasticamente da 6 a 2 Il potere scende da 4 a 3 Ma la vita sale da 1 a 2 Con un effetto anche interessante Ottieni più 1 più 1 E sfidante Una volta che hai castato una spell a costo 6 Di nuovo qua E sempre per rimanere in quell'archetipo E abbiamo a costo 2 Un pezzo che comunque diventa un 3-2 Quindi giocabile In curva Fa il suo lavoro Se invece lo vai a giocare più avanti nella partita Perché lo hai pescato dopo Perché lo hai conservato Diventa a costo 2 Un 4-3 con sfidante Che è un bel personaggio da mettere in campo Molto solido Almeno hai un motivo per andarlo a utilizzare E non tenerlo da parte Perché forse potrebbe tornarti utile Ma era troppo situazionale Al contrario del beniamino della folla Che costo 4 Veniva inserito in ogni mazzo di ragni O aggressivo In cui mettevi giù un sacco di servitori E infatti la vita scende da 2 a 1 Assolutamente Che è un piccolo aiuto A quando i mazzi ragno partono a cannone E ti riempono immediatamente il campo di ragni Per andare a chiudere in curva sul quarto turno Su di lui Sul beniamino della folla Perché era fortissimo Scendeva ragionevolmente come 6-6 Al quarto turno Ed era enorme Non che 6-5 sia piccolo Sia ben chiaro Ma ti aiuta a rimuoverlo Almeno in due mandate Almeno in una parata Più uno sparo Potrebbe essere molto molto più gestibile Alle volte stava sopra ogni cosa E poi ricordiamo che Avendo Sopraffare Tornava molto utile Sì Soprattutto in early game Quando non hai ancora quella unità Pararlo due volte non era una bella sensazione Bisognava rimuoverlo No 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 Dovevi subito eliminarlo Il più in fretta possibile Con una carta invece che qua Utilizzata poco In rare occasioni Ma c'era chi era specializzato In utilizzare questa carta E il retaggio dei figli del gelo Il costo passa da 3 a 5 E adesso Dalla essere una spell Raffica Che dava più uno A un alleato E a tutte le copie Di quella carta E diventa una spell lenta E Però dà più due Più due All'alleato E ad ogni copia Di quella carta Ovunque essa sia Anche se deve ancora essere creata Già Questa carta È particolare Questa modifica La rende Molto più potente In termini proprio di Valori E gigantesco Più due più due A una carta che riesce a sfruttare In multiple copie Su una carta che riesce a sfruttare In multiple copie Il fatto che sia lenta È una cosa molto grave però Perché Usare un potenziamento lento Vuol dire che Se il tuo bersaglio Viene rimosso dal gioco Nel momento in cui Tu stai giocando La carta che lo potenzia La carta che lo potenzia Viene persa Questa carta rischia Di farti perdere 5 mana Quindi andrà giocata Solamente in certi momenti In cui l'avversario Non ha mana per rispondere Ad esempio Per ottenere un valore Molto molto grande Sono curioso di vedere Se vedrà giocata Potrebbe esserci Qualche situazione È interessante Sicuramente la modifica Un'altra modifica Interessante È anche quella Dell'istinto del branco Che invece di dare Alleati E tutti gli altri Alleati Di il suo gruppo Più 3 Più 3 E sopraffare Questo round Hai a tutti gli alleati Viene dato più 2 E sopraffare Sì Era molto in giocata Più che altro Perché non esistono Tanti gruppi In League of Legends E in Legend of Runeterra Scusate Al momento Ce n'erano veramente pochi Poro Mech Elite Ragni Ragni Basta Basta E nessuno di questi Cioè no Nel senso E nessuno di questi Si ergisava bene Una cosa del genere A parte gli Elnak Che sono di base Molto molto grossi E di conseguenza Gli vai a dare Un potenziamento E sopraffare E fa da chiusura Però comunque di nuovo Era una magia lenta Che andava a bersagliare Unità Per poi potenziare Tutte quelle del suo gruppo Al problema che ho detto prima Della Della I figli del gelo Cioè Se io rimuovo il pezzo Che sta venendo potenziato Perdo la carta E qua ne perdo 7 di mana Cioè Era pazzesco Un pochino Un pochino Cioè Ora troverò a posto Magari Cioè l'identità prima Era per potenziare Gli Elnuke e i Poro E eri là che dici Ok quante volte potrò utilizzarla Perché costa 7 Ed è lenta Era Veramente troppo situazionale Parlando di Poro I Porosnacks Che scendono a costo 4 A costo 3 Finalmente anche I Poro non vengono giocati Poretti Eh Ragazzi Cioè Chat Si gioca Mazzoporo L'ho detto L'ho detto qua Sul video Quindi non posso tirarmi indietro Finalmente possiamo giocare Mazzoporo Ragazzi Questo qui è veramente forte Essendo una magia raffica Il Porosnack Dà Un aiuto grosso Al Mazzoporo Assolutamente Può funzionare Oh finalmente I Porosnack hanno I Poro hanno il loro Loro spazio Esatto La gloria Deve venire Sulla città fronte terra E invece tu dovresti essere felice Di questo nerf Il branco di Elnuk Che viene finalmente nerfato Oh La chat vi dice che odio gli animali Non è vero Io Amoro I Poro Io odio gli Elnac È sottilmente diverso Ragazzi Gli animali non mi hanno fatto niente Gli Elnac È letteralmente La giocata più Random Random del gioco E non ci piace Una delle poker È giocata random All'interno Veramente Una delle pochissime Ma aveva un impatto gigantesco Di quinto turno In curva La truppa di Elnac Che ne evocava Altri tre Altri Anche solo altri due Che era una giocata Nella media Evocarne altri due Quasi Era troppo Un nerf sensibile Rimane una giocata casuale Io avrei gradito Un rework Di questa carta Non Non Un nerf Ma Va bene anche così Ridurne la potenza Renderà magari meno giocata Tranne nei mazzi Che si basano su delay Cioè nel creare tante copie Di Elnac E rimetterli del mazzo Almeno non la giocheranno In qualunque mazzo Che va A dover estender E con il Freylord E meno male direi anche Passiamo invece alle carte Più un po' universali Come il Cospiratore di Navori Che il suo potere Scende da tre a due E grazie Grazie I mazzi elusivi Sono troppo forti Vengono troppo poco puniti Pogliere attacco Al Cospiratore di Navori Era una cosa che Mi aspettavo Tra virgolette Io sincero Sugli elusivi Basterebbe farli fragili Proprio fatti di carta pesta Possono essere forti Secondo me Ma devono essere Almeno fragili Almeno quello Questa cosa è stata Pensata esattamente così Da chi modifica le carte Perché in passato Hanno nerfato Il mentor Anziché più uno più uno Più uno più zero Sì Restano comunque Troppo forti Anche nei loro Nei loro punti di attacco E questo nerf Era richiesto Assolutamente Rodicchietta Bisteccona Invece Il champ Wamp Per chi è più Anglopono Perché Rodicchietta Bisteccona Non so come Da dove Si è uscito È particolare Molto Particolare Come nome Passate da Quattro vita A tre È curioso Perché Va bene Che ti metteva giù Ti aiutava tanto A livello Di funghetti Di timo Ma non Sincero Non pensavo Che sarebbe stato Così forte Da addirittura Andare nel farlo È perché Viene giocato Nell'archetipo Con Ezreal Per fare Una combo Che ti uccide In un turno Sfruttando La magia Di Ezreal Da evoluto Usando I funghetti Le carte Che mettono funghi Nel mazzo A costru uno Per in realtà Fare due danni diretti Al nexus avversario Con Ezreal Trasformato Non avrei Nerfato La rodicchietta Bisteccona Ma Avrei toccato Qualcos'altro Per quel deck Ma è un inizio Non è un deck Esageratamente forte È performante L'hanno toccato Vievemente Ci sta Parlando sempre Di Piltover e Zaun Però il nerf Il lampo di genio Non nerf È una modifica Perché prima Lo utilizzavi sempre Perché tornava utile Perché ti ricaricava Il mana E ottenevi una spell casuale Da 1 a 10 Poteva essere Qualsivoglia cosa Se ti andava bene Bene Se ti andava male Amen Hai comunque Una spell molto potente Poi per le fasi più avanzate Adesso invece Ti crea Una spell casuale Che costa 6 O più Mana Sì Hanno cambiato il fattore Che vado a cercare La soluzione Perché sono disperato Con Questa carta Speriamo che mi dia Un più 0 Più 3 Mi dia un counter Non c'è più Adesso sai che ti darà Una finisher Una magia molto forte Si gioca chiaramente In combo con Eimerdinger Questa carta Quindi è molto buono Che ti dia una spell Che costa molto mana Perché andrà ad evocarti Una torretta più forte Eimerdinger In combo con lei Di conseguenza E come dici sempre tu Danno più senso All'identità Che hanno queste carte Nei vari mazzi Chiaro Come ad esempio Anche rovistare Che rimane sempre In build over zone E finalmente Puoi andarla a utilizzare Anche se hai Soltanto una carta Potrei pescarne Soltanto una Ma almeno Puoi andarla a utilizzare Non è totalmente inutile Se hai meno di tre carte in mano E almeno aiuta I mazzi con Jinx A trasformarla Nei discard aggro Vengono chiamati I mazzi con Jinx e Draven E aiuta leggermente Il famoso mazzo di Azera Di cui parlavo prima A fare danno Perché ora la potete usare È una magia raffica Costo uno La potete usare Per fare due danni diretti All'avversario Al costo di una sola carta Se la usate come l'ultima Che avete in mano Troverà spazio Sicuramente Più spazio di prima No Finalmente Ha un suo scopo Come invece Il voltista instabile Che Prima era Una unità Genericamente Era strana Era un'unità Genericamente aggressiva Che però Non aveva quello Come scopo nella vita Quando veniva evocato Ottenevi più 4 Più 0 E ottenevi L'attacco veloce Solo se avevi Castato una spell A costo 6 Durante la partita Adesso è Tutti gli effetti Li ottieni Solo se casti una spell A costo 6 Ciao Lux Benvenuta Dai benvenuto Al voltista instabile Sempre La solita identità Un mazzo ai merding Lux adesso Ha guadagnato Lui come chiusura Che è grosso Per 5 Manon 8 4 E anche appunto La carta di prima Che va a creare Una spell Che costa 6 o più E quindi in combo Con Lux Di nuovo È molto buona Sarà un archetipo Che verrà visto Probabilmente Big spell Lux Esatto Tante spell Molto grosse Vedremo che cosa Tireranno fuori Con risveglia Della nidiata Invece questo Mi ha incuriosito Perché Nei mazzi ragno Non veniva giocata Da costo 6 Scende a costo 5 Molto forte Adesso troverà sicuramente valore Il problema di questa carta Era che Giocata a campo vuoto Non era così tanto grande Ci stava Dovevi andare a potenziare Almeno altri Uno o due ragni Perché fosse effettivamente Di valore A costo 5 Dunque personalmente Giocata a campo vuoto Non è male E di conseguenza Troverà spazio Magari in un paio di copie Perché Di nuovo Se hai già vantaggio È fortissima Se sei a campo vuoto Ti aiuta a ripartire Che è esattamente quello Che vuole un mazzo aggressivo Quindi un mazzo ragno E arriviamo alle ultime due carte Che vengono nerfate Sempre delle isole d'ombra Perché sappiamo Come sono fatte le isole d'ombra Sono un pochino dominanti Tranne Calista Che fino ad ora Non veniva giocata Marchio delle isole Invece di dare più 3 Più 3 Effimero Adesso da soltanto Più 2 Più 2 Ed effimero Come Sempre la mia chat Che è qua Che vuole Quando vede queste cose Vuole sentirmi parlare Io detesto Marchio delle isole d'ombra Detesto lei E detesto eroe solitario Di Demacia Sono secondo me Le carte peggiori del gioco Come proprio design Ragazzi Capiamoci Perché sono fortissime Invece come potenziale È per questo che viene nerfata Il marchio delle isole d'ombra Secondo me Questo nerf Non è abbastanza Ma comunque È sicuramente un inizio Aiuta a dire Che il marchio delle isole d'ombra È molto molto forte Gli fa tenere spazio Perché comunque Le isole d'ombra Hanno degli archetti Più aggressivi Molto potenti Di conseguenza Ci sta che abbiano Un Un combat trick Viene definito Un trucchetto di combattimento Perché è una magia raffica Ci sta che ce ne abbiano Molto molto forti Questi trucchetti di combattimento Ma il marchio delle isole d'ombra È troppo forte E secondo me Verrà toccato ancora Secondo me Il nerf giusto Era fare Più 3 più 1 O addirittura Più 3 più 0 Anche se era Poi non paragonabile Ad altre carte Quindi lasciamo perdere Le mie idee È un ottimo nerf Grazie a Riot Almeno quella Almeno hanno trovato Un modo per tenerlo sotto controllo Come il ravvivatore Che ormai Lo mettevi a caso In qualsiasi deck Cioè Il fatto che esista Garen ravvivatore Era profondamente sbagliato Era profondamente sbagliato E il secondo campione Del deck Garen ravvivatore Era il secondo campione Del mazzo Tu cavi in curva Garen ravvivatore Era assurdo Il ravvivatore Potevi inserirlo In qualsivoglia mazzo Potevi fare Un mazzo Full piltovere E poi 3 ravvivatore Ed era comunque utile Letteralmente Full demacia E ravvivatore 3 ravvivatore Era l'unica deck card Delle isole dell'ombra Incredibile Cioè tu metti L'isole dell'ombra In un mazzo Per mettere una sola carta Pensate quanto era forte Il ravvivatore E finalmente Onestissimo Anche questa L'avrei magari Innerfata diversamente Io ma È perfetto Da corso 6 a corso 7 Almeno hanno Hanno ritardato Il suo effetto Che era la cosa fondamentale Assolutamente Da fare E se non l'avessero fatto Sarebbe stato preoccupante Secondo me Perché Andare a modificare l'effetto Secondo me sarebbe stato troppo Cioè piuttosto Vai a nerfare il body Adesso Cioè tieni quell'effetto L'effetto è fichissimo Sì è vero Piuttosto nerfa il body Rendilo Rendilo fragile Ha un effetto potentissimo Rendilo fragile Rendilo costoso Almeno tieni sotto contro la carta Senza indebolirne l'effetto Perché l'effetto Può starci Ma non è necessario Ucciderlo Assolutamente Penso che questa sia la cosa chiave Quella che hai detto tu È divertente Da giocare Il ravivatore È veramente Veramente divertente Perché avere tantissimi slot Per campioni È quello che rende il gioco Bello Comunque I campioni È quella la parte figa Il fatto di andare a potenziarli Se poi tornano in vita Sei tipo Ah ho trovato il salvataggio La misura di sicurezza Esatto In caso vadano per una vendetta E mi ammazzino subito il campione Che quante volte è successo Succede sempre Viene tenuto di proposito La risposta A una giocata forte Ovviamente Questo è quanto per questo video Signore e signori Io e Sol vi salutiamo Per rimanere sintonizzati E aggiornati Su tutto quello che riguarda Legends of Runeterra Potete seguire Legends of Runeterra Italia Su Facebook E Playrunterra Ita Su Instagram Ragazzi Ci vediamo Al prossimo video